Ho visto il film di Barbie e l'ho adorato. Credo che ad oggi sia l'esperienza cinematografica più divertente del mio 2023. Il perché ve lo spiego subito dopo la sigla. Quando si crea un film su licenza, il principale scopo degli aventi diritto è insito nel lustro dato alla licenza stessa. Più questa è datata e più necessita una rinfrescata per rendersi appetibile a un nuovo pubblico di riferimento. Lo scopo del film diventa quindi esaltare i punti di forza del prodotto per spingerlo quanto più possibile in corso di adattamento. Barbie tuttavia porta sulle spalle quasi un secolo di storia e nel 2023, anni in cui la tecnologia la fa da padrone e le bimbe chiedono sempre più spesso smartphone, tablet e console anziché giocattoli, come si può rendere accattivante una bambola? Semplicemente scegliendo di utilizzarla come tramite per veicolare un messaggio, lanciare un appello e diventare un monito per i bimbi di ieri, oggi e soprattutto domani, decidendo coraggiosamente di palesare una forte autocritica non solo nel prodotto stesso, ma anche nel suo creatore. Quindi, plauso a Mattel per aver avuto la longimiranza di affidarsi a sull'alizio creativo di Greta Garuig alla regia e Noah Bambock alla sceneggiatura per confezionare questo manifesto pop contemporaneo che andrebbe studiato nelle scuole di cinema. E non sto esagerando, perché si sono riusciti a toccare temi spinosi quali capitalismo, discriminazione, sessismo con un linguaggio fresco, brioso, immediato, sagace, brillante, colorato, divertente, giovane e soprattutto già iconico. L'intera epopea condotta da Barbie, Ken e tutti gli altri è una dichiarazione d'amore costante. Al cinema, tanto nella sostanza che omaggia Il Padrino, 2001 di Sé nello Spazio, Forrest Gump, Jurassic Park, Ice Wide Shot, Matrix, quanto nella splendida forma orchestrata da set creativi e visionari, una fotografia splendida e una colonna sonora originale pregna di pezzi pop iconici, momenti musical camp e balletti che faranno il giro di TikTok. Così come la storia di Barbie, che denota quanto lavoro di ricerca sia stato fatto nella stesura della cronologia, la creazione dei personaggi e il retaggio storico di tutte le hit e i flop che hanno costellato l'immensa linea di giocattoli. Il fin di Barbie parla a tutti, anche e soprattutto tutti i maschietti. Per rendere alla figura maschile maggiormente chiari i danni fatti dal patriarcato nel nostro mondo, si è deciso di seguire la via del parallelismo di Barbie Land, dove Ken e tutti gli altri uomini non hanno una casa, un sogno, un'ambizione o un talento e vivono solo in accezione dell'essere accessori per le Barbie, al punto che le loro giornate assumono un senso esclusivamente quando loro li guardano. In quest'ottica, quando la Barbie di Margot Robbie inizia a sviluppare paure umane tridimensionali e il suo corpo inizia a perdere quell'alone di perfezione, i suoi piedi diventano piatti e la cellulite inizia ad affacciarsi sulla sua pelle facendola sostanzialmente vivere la quotidianità di una donna ordinaria. Per venirne a capo è necessario per Barbie fuggire dal suo mondo utopistico, cartunesco e ricco di stereotipi, per trovarsi catapultata nel nostro, dove dovrà cercare delle risposte che potrebbero, beh, non piacerle. E qui il Ken di Ryan Gosling diventa fondamentale nel concepire come l'uomo venga visto nella nostra realtà e dove potrebbero spingerlo le sue ambizioni una volta tornato a Barbie Land. La star è stata bravissima a mostrare una vulnerabilità fragile e alla costante ricerca di conferme rassicurazioni, come fosse un contraltare allo spettro emotivo femminile. Ed anche se so bene che per molti maschietti sarà facilissimo cadere vittima della retorica del gioco delle parti o della trita-retrita guerra tra i sessi, è bene specificare che né la critica né la morale di Barbie guardino in faccia niente e nessuno, e che anzi, grazie a un umorismo malizioso, adulto, cinico, sarcastico e solo occasionalmente volgare, saprà trascinare gli spettatori di tutta l'età, anche se quelli più grandi celli saranno avvantaggiati nel comprendere tutti i meccanismi di questo registro, all'interno di un vortice surreale di situazioni che si susseguiranno l'un l'altra, passando da una guerra che si combatterà a suon di canzoni fino a una missione spionistica basata sul massplaining. Vortice surreale e fantasioso in cui il pubblico è chiamato solo ad ascoltare i punti di vista dei vari personaggi e chiedersi come porsi a riguardo per fare la sua parte nella storia e nella società, anziché domandarsi quale sia il regolamento di questo sistema magico che sin dalle prime battute non fa che ripetergli che non importi come funzioni cosa, ma solo che vi creda quel tanto che basta affinché funzioni. E con me ha funzionato. In conclusione, sebbene alcune sezioni sembrino un allungamento di brodo, un paio di momenti risultino ridondanti, nel terzo atto alcuni personaggi vengono lasciati un po' sullo sfondo e altre sottotrame gettate alle ortiche quando avrebbero meritato maggior approfondimento, non riesco assolutamente a scrollarmi di dosso l'idea che Barbie sia già un instant classic generazionale destinato a lasciare il segno nel cinema pop, se non addirittura uno dei prodotti più intelligenti e, ammettiamolo, anche un po' consapevolmente ruffiani, furbi e paraculi, mai realizzati su una licenza, al punto che vorrei già un sequel, uno spin-off su Ken, Skipper, Midge e tanti altri ancora, ma almeno per il momento dovrò accontentarmi di riguardarmi questo film fino allo sfidimento per ricordarmi che in mezzo a tanti franchise fotocopia ci si possa ancora sorprendere, divertire ed emozionare anche con un film commerciale. Pure se è su una bambola. novembre pr silence chi Grazie.